Ciao ragazzi, sono Serena dei siti andragoparlante.com e laserenasalute.com e oggi vedremo assieme come preparare un cremosissimo e buonissimo yogurt al 100% vegetale. Musica Si, 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 te miero mapo, mapo Si, 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 te miero mapo, mapo Sì, 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 io voglio Vapo, vapo Sì, sì, io voglio Ed ora non ci rimane che provare Buonissimo Ciao